E' una gastronomia da chiostro a chiostro, due serate per degustare le eccellenze pratesi. Lunedì e martedì 4 e 5 luglio, gli chef e i maestri pasticceri presenteranno nel cuore del Centro Storico piatti della tradizione culturale e nuove creazioni dolciarie. Sono due chiostri delle chiese storici di Prato. L'idea è quella di valorizzare i ristoratori e i pasticceri della provincia di Prato, quindi avremo la possibilità di degustare nel chiostro di San Domenico i piatti che i ristoratori presenteranno in quell'occasione e devo dire che si sono dati veramente da fare i nostri ristoratori della provincia di Prato. Alcuni presenteranno, pensate a alcune ricette che hanno una cultura e risalgono a una storia culinaria e culturale della provincia di Prato. Mentre nel chiostro del Cattedrale Santo Stefano avremo la possibilità di incontrare i 4 pasticceri che presenteranno per la prima volta 4 nuovi dolci. È un modo di vivere un centro storico in maniera diversa, quindi in tutta relax passeggiare per Prato, per il centro storico e avere la possibilità di vedere da varie angolazioni il centro storico di Prato che devo dire è bellissimo.